Ciao sono Luca e in questo video vedremo come eseguire il jump squat. Sei in piedi con le gambe leggermente piegate, la schiena che mantiene le proprie curve fisiologiche e la zona centrale del corpo a livello muscolare contratta per una buona postura. L'esecuzione consiste nel flettere l'articolazione delle ginocchia effettuando una variante di squat in questo caso eseguito in maniera ballistica, contemporaneamente estendendo le braccia lungo i fianchi. Le ginocchia non devono andare oltre la punta dei piedi per evitare di sovraccaricarsi in termini di stress con il peso che grava principalmente sui talloni. Nella fase discendente puoi arrivare con le cosce parallele al suolo o leggermente al di sotto del parallelo e tutto questo dipende dal tuo grado di flessibilità e di mobilità che devi rispettare. Assicurati che il movimento sia ben coordinato e alternato per la massima efficacia. Mi raccomando stai molto attento a respirare regolarmente. Infine assicurati di avere un buon equilibrio e di eseguire l'esercizio per un numero di serie e di ripetizioni che rispetti il tuo grado di allenamento e di resistenza. Per quanto riguarda gli esercizi Total Body a corpo libero qui trovi gli altri video. Come sempre se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di Personal Trainer Online.